Mamma mia, guarda proprio che qua, questa qua è la scheletta per salire, è una piattaforma. Ok, vado su, vai, schiena. Anche voi, buona passettata. Grazie, ciao. 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 Mamma mia, aiuto. Non pensavo che ballavo così tanto. Ciao. Ciao. Cavolo, il peggio del cammello. E infatti il nostro è piccolino rispetto a questo davanti. Mamma mia. Devo stare attaccati bene qua, se no ci vogliamo giù. Ci volevano un'imbragatura. Mamma mia. Ciao. Cosa c'è la fai? Ci fai con il cellulare? Sì. E io non c'ho qua il cellulare, quello è il problema. Aspetti però perché qua sono indisciata. Sì, siamo... Tieni bene lo zaino se lo ribalta giù. Speriamo che non scivola. Speriamo che non scivola. Mamma mia che roba. Siamo sulle montagne rosse qua. Speriamo che era lì. Oh. Miseria! si ho visto ma voi siete più sciallati quando fate la discesa noi li tiriamo giù come è andata? tutto bene? tutto bene guarda come è felice guarda anche questo che si è sdraiato si è sfoccato tutto lì è tutto felice proprio vuole piccolino se vuole piccolino la tristezza proprio degli elefanti che gli fanno fare queste minchiade che non ho filmato le cose che ho fatto prima perché erano veramente assurde queste cose proprio non mi piacciono sa quante botte che ci sono presi che tristezza ma esseri umani adesso saliremo su queste carrozze trainate dai bufali che ci porterà al villaggio delle donne giraffa andiamo dalle donne giraffa stanno bevendo bene non mi piacciono Voi? Ora è da circa un anno che ha rimesso. Ah, quindi possono stare senza anelli? Dipende quanto tempo sia, perché... E' bel collo. Ci dura là, o durante i mesi. Posso arrivare 8 kg? 8 kg, oh miseria. Un po' più pesanti. Pesa? Che, per togliere. Minch'è se pesa. Quando mettere con calore, quando mettere con calore, c'è un po' più pesanti. Non è quello che si allunga, signori, perché i dottori contate sono uguali a noi. Sono le spalle, signori, le spalle. Ah, si abbassano le spalle? Ah, si abbassano le spalle. E si chiama mazzo, mia amica, sì. Mettalo sul vidro, un bordalco, per proteggersi. Queste carte, fatte da loro, eh, signori. Le carte, sì. A mano. La piovio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono proprio i mezzi che usano tantissimo loro. Sto fuori, sto fuori, sto fuori. Sto fuori? Via. Sto fuori, dai, dai. È più divertente fuori, eh? Ci stiamo tutti? Ci stiamo. Dove c'è posto? Dai, stai lì, fai prendere un po' di aria. Sono vero, ragazzi. Quelli sono forti. Ehi, orio. Ho manca una cosa. È una bersagliera. Ma è vero, ragazzi. Ci stai basta. Non ce l'ha. 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 Perché cos'hai fatta? Cos'hai combinata? Cos'hai fatta da tutti i piedi? No, vabbè, vabbè, signora, vabbè. Stiamo nel museo delle orchidee. La nostra ultima tappa in Thailandia. Poi stasera abbiamo il volo. Di là ci sono anche un po' di farfalle. Ci hanno detto dopo andiamo a vedere. Andiamo a vedere le farfalle. Sì, per non farle scappare di fuori. Come in Messico, anche in Messico. C'è una zona del genere con tutte le farfalle. Quante? Quante? Quante c'è? Quante Casey? Quante C file? Quante. Quante perché? Quante. Quante? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti